Sono riprese in questi giorni le vaccinazioni al personale scolastico della provincia di Ravenna grazie alle nuove dosi arrivate in tutta la regione che hanno permesso di iniziare a potenziare la campagna vaccinale. Sono i medici di medicina generale ad essere incaricati di continuare a portare avanti le vaccinazioni per tutti i lavoratori della scuola in vista della riapertura di parte degli istituti dopo Pasqua. Le vaccinazioni quindi stanno proseguendo negli ambulatori medici o negli spazi messi a disposizione dall'azienda sanitaria. Si vaccina anche nel weekend come sta avvenendo di fatto in queste ore con il supporto delle associazioni di volontariato per non andare a modificare la normale attività ambulatoriale già fortemente influenzata dalla pandemia. Dalle statistiche provenienti dalla regione metà del personale scolastico è già stato vaccinato con la prima dose. A differenza di prima però ora le vaccinazioni sempre con AstraZeneca sono aperte anche a tutti quei lavoratori impegnati a scuola ma che non rientrano all'interno del personale scolastico. È il caso ad esempio del personale in servizio nelle mense quasi sempre dipendenti di una realtà aziendale sterra al mondo della scuola e quindi inizialmente esclusi dalle vaccinazioni. Completata la vaccinazione del personale scolastico ai medici di famiglia stando ai piani dell'azienda sanitaria dovrebbero competere anche le vaccinazioni dei caregiver ovvero di quelle persone che si prendono cura delle persone con fragilità o delle persone non autosufficienti. La decisione ufficiale tarda ancora però ad arrivare. Sarà necessario infatti capire di quante vaccinazioni si possa trattare e se il numero sarà compatibile con l'attività ambulatoriale. Il potenziamento della campagna vaccinale riguarderà in questi giorni tutte le linee vaccinali aperte dall'Aus Romagna in provincia di Ravenna. Non solo quindi le sedi principali di Ravenna-Lugo-Efenza. In questo weekend le vaccinazioni ad esempio sono aperte anche a Castel Bolognese nella Casa della Salute per gli ovvero 75 e le persone che rientrano nelle classi dei pazienti estremamente vulnerabili. Le somministrazioni non si fermeranno neanche nel giorno di Pasqua. Per quanto riguarda la sede originariamente non prevista nel comune di Casio Lavalsegno l'azienda sanitaria ha deciso di portare avanti la sperimentazione. Il comune infatti è notevolmente distaccato da tutte le sedi vaccinali e si è creato un nucleo operativo fra medici e volontari che è riuscito a raggiungere nei giorni scorsi importanti risultati che sarebbe opportuno non sprecare. Così anche per non far spostare inutilmente le persone si è deciso di continuare la campagna vaccinale ma solo, unicamente con le dosi di AstraZeneca. Domenica 18 aprile sarà quindi istituita una giornata speciale nella quale saranno vaccinati circa un centinaio di ovvero 75 con la prima dose. Nel frattempo continuano ad arrivare i primi dati sulla popolazione vaccinata. È il caso della popolazione sanitaria che in gran parte ha già completato il ciclo vaccinale delle due dosi. Al momento sono 170 le persone contagiate dal coronavirus fra il personale sanitario regionale, ovvero meno dell'1%, nonostante l'alto tasso di contagiosità della variante inglese che si è diffuso in tutta la regione ed ha riempito gli ospedali. Durante la seconda ondata, prima dell'inizio della campagna vaccinale, il personale sanitario che aveva contratto il virus, il più delle volte nel prestare assistenza alle persone contagiate, era oltre il 7%. Grazie. Grazie. Grazie.